buongiorno a tutti ciao eccoci qua questo è il lago Ceresio a Lugano io sono cresciuta però da quella parte a Coreglia quindi un po' in collina adesso vivo a Massagna anche sempre lì in zona adesso vivo da un anno a Lugano sono entrata in Ticino dopo più o meno 9 o 8 9 10 anni in giro per la Svizzera e niente mi godo un po' sola già lo vedevo quando io dal Ticino andavo a Zurigo per la prima volta lo sanno che il sole non c'era era una cosa che ti influenzava di più la vita e penso non sia l'unica che la pensa così. People of Switzerland